Devo dire che la Toscana sta facendo una campagna straordinaria, è facile dare le direttive a questa regione. Si è partiti lenti, ma poi come un diesel si arriva al traguardo in maniera decisa e quasi inesorabile, devo dire. 90% quasi di vaccinati con ciclo completo, oltre il 97% degli over 80% messi in sicurezza. Sono parole di apprezzamento e incoraggiamento a continuare su questa strada quelle del generale Francesco Paolo Figliuolo per la campagna vaccinale toscana nel suo complesso. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid torna nella nostra regione, accompagnato dal presidente della regione Eugenio Gianni e dal direttore del Meyer Alberto Zanobini, visita il centro vaccinale dell'ospedale pediatrico dedicato ai bambini estremamente vulnerabili. Sono circa 6.000 i bimbi con fragilità in Toscana, che per questo necessitano di vaccinazione in ambiente protetto. Un atto di amore, la vaccinazione pediatrica, ha detto Figliuolo, il Meyer ne è un esempio. Vaccinare i bambini è un atto d'amore. Devo dire che qui ho visto molti atti di amore, grazie per quello che state facendo, per questi bimbi, per le loro famiglie, per dargli un po' più di serenità a bambini che magari hanno dei problemi, sono fragili. Il presidente Gianni ha ribadito la convinzione nella campagna vaccinale e l'importanza per le regioni della collaborazione con la struttura commissariale. Siamo orgogliosi di seguire le indicazioni e gli indirizzi della struttura commissariale che lei dirige, perché indubbiamente si è consolidato sempre più quel rapporto di stima e di autentica autorevolezza che lei ha saputo offrire e che ha dato linee di indirizzo perché poi le strutture operative delle regioni potessero agire. E noi ci sentiamo in Toscano orgogliosi di vedere sulle statistiche, penso alla Fondazione Gimbe, la Toscana prima fra le 20 regioni proprio per quella copertura vaccinale che onestamente sia che si tratti della prima dose, sia che si tratti della copertura generale dalla risposta al Covid.